Le forze dell'ordine hanno arrestato l'uomo che durante il lockdown avrebbe violentato e messo incinta una ragazza disabile che gli era stata affidata, ricoverata all'Osi di Troina. L'indiziato è un operatore sanitario della struttura di 39 anni che ha confessato la violenza sessuale avvenuta lo scorso aprile, quando la struttura era considerata zona rossa. La ragazza era ospite della struttura da diverso tempo e soffre di gravi patologie legate a una rara malattia genetica. Donald Trump è tornato al lavoro nello studio Vale. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato su Twitter di essere stato aggiornato sull'uragano Delta e di aver parlato con i governatori del Texas e della Louisiana. Trump ha anche parlato ai cittadini, raccontando le sue giornate di un ospedale e come il cocktail di Pharmacy Regeneron lo abbia aiutato a guarire dal Covid-19. Il tycoon vuole ora metterlo gratuitamente a disposizione della popolazione. Secondo il 52% dei votanti americani sarebbe meglio chiudere tutti i social media durante la settimana precedente alle elezioni. Questo è il risultato di un sondaggio condotto dalla società di ricerca GQR per Accantable Tech, che ha intervistato mille cittadini statunitensi registrati al voto, circa metà democratici e metà repubblicani. Il 79% del campione è convinto che i social media dovrebbero impegnarsi di più per proteggere la democrazia e l'82% pensa che contrassegnare gli account che diffondono disinformazione sulle elezioni sia inutile. L'85% è d'accordo con il blocco di post che invocano violenza o diffondono informazioni sbagliate riguardanti il voto, ma il 62% degli intervistati ha affermato di non essere sicuro che i social media possano prevenire la disinformazione sulle elezioni. Essere se stessi sui social network è sintomo di medessere psicologico e allo stesso tempo l'autenticità online aiuta a sentirsi meglio. Questo è il risultato di uno studio di Erika Bailey della Columbia University in New York pubblicato sulla rivista Nature Communications. I ricercatori hanno studiato l'autenticità delle informazioni postate su Facebook da un campione di 10.560 persone, confrontando il quadro psicologico emerso dalle attività online con i risultati di un test standard di personalità e con un esame per misurare il proprio benessere psichico chiamato Life Satisfaction, entrambi compilati da ciascun volontario. Secondo i risultati più l'attività sul popolare social network era in linea con i risultati dell'esame psicologico maggiore era il benessere psichico dell'utente.